Vincitore di Delic Open Mix Pedato 2024 è... Gli articoli del Delic! Oh, vincitore ragazzi! Grazie, bravo! Grazie! Siete stati all'altezza, mi vengono a vedere di me. Mezza altezza. Complimenti, complimenti ragazzi, questo è l'applauso, l'applauso a tutti i finalisti, a tutti i serialisti e soprattutto al movimento coloristico del nostro territorio, perché hanno rubato la felicità, hanno rubato la passione per quest'arte. Allora...